Velocissimi, pronti? Buonasera. Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Buonasera, sono Raffaele. Prego Raffaele, velocissimo. Buonasera, no niente, lo devo fare, non si complimenti al Napoli, anche se siamo usciti comunque a testa alto da questa grande competizione. E poi voglio fare una provocazione a Tascone, se l'accetta. Ma secondo te Mazzari sul 2-1, a un quarto d'ora alla fine, se metteva Hitler a posto di Amsic e metteva Zemagli e dopo 5 minuti buttava dentro Fernandez per tamponare un po' lì, il Napoli a questo punto andava ai quarti, sono tifosissimo del Napoli, non è una polemica ma è solo una provocazione. Perfetto, sentiamo subito la risposta, grazie. Per la risposta il tifoso ha visto giusto in quanto facendo entrare Zemagli e togliere uno e purtroppo i riseri hanno visto la partita dal campo, spettatori non vaganti e pallo di Cavani e di Amsic. Abbassare una difesa a quattro sarebbe stata una cosa che quando venne che il Napoli sul 2-1 eravamo qualificati. Non ha fatto questa cosa, ma Mazzari siccome che con questo modo ha avuto tanti successi da quando era a Pistoia, da quando era a Cireale, da quando era a Reggio Calabria, i suoi schemi, i suoi modi non li cambierai difficilmente che noi è un grande allenatore. Però il telespettatore ha detto che tu avessi cambiato in questa partita. Assolutamente sì, Zemagli in mezzo al campo, abbassavamo Zuniga, facevamo bene e poi dopo, successivamente, dopo 10-12 minuti, siccome abbiamo visto che con i colpi di testa eravamo in netta difficoltà, Fernandez, ragazzo 89, argentino, fa parte dell'anzionale argentina, ma com'è possibile che non si metta mai in campo questo ragazzo? Non è possibile che non si metta mai in campo, ma com'è possibile che non si metta mai in campo, ma com'è possibile che non si metta mai in campo.